Sì, grazie. Ora sto a voi. Su, 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 stupido pezzo di legno. Su. Fate passare una gamba dall'altra parte. Bene, ora passiamo alla prima lezione. Attraversate volando ogni singolo anello nel cortile. Fate attenzione, le scope sono di proprietà della scuola. Vorrei avere una scopa tutta mia. Le voglio indietro intere. Ah, sto cominciando a prenderci la mano. Non è stato qualcosa di difficile. Salve. Ah, ben fatto! Hai un momento? Oh, no. Con le sedie, però, esercitati un po' col movimento della bacchetta. Splendido. Splendido. Ora, lancio. Oh, evocare oggetti? Te la insegnerò io. Molto bene. Per evocare oggetti... Che occorre... Che occorre... Ottimo lavoro! Andiamo avanti. Ho evocato tutto il possibile. Ora che faccio, professoressa? Credo sia il momento di insegnarti l'alterazione. L'incantesimo alterante ti permette di personalizzare gli oggetti evocati. Siamo. Osserva attentamente mentre ti mostro come si lancia l'incantesimo alterante. Punta la bacchetta verso... Tutta l'hanno fatta venire. Non starci o... Tutti i suoi incarichi, professore. Bene. Ora sei pronto per apprendere de pulso. Vediamo cosa riesci a fare. Concentrati. Non lasciare che la mente vaghi. Ora sai come fare. Se vuoi fare pratica... Una giocata memorabile. E' una questione di pulso. Eh, tutta fortuna. Eh, ho già vinto, eh, però. Eh, fai... Tasta, resta. Va bene. Ben fatto. Mi hai battuto. Eh, ho distrutto stavolta, signori. Atari giocava. L'incantesimo è con Fringo. Molto bene. Con Fringo, vai. Ecco, ci sei. Ora puoi provarlo sul serio? Colpisci solo i bersagli. I compiti sono stati eseguiti. Iniziamo. Glacius. Presta attenzione a come muovi la bacchetta. Ben fatto. Ti consiglio... Ma, c'è il mostro è immaginato. な, c'è il mostro è immaginato.